Valentina Vignali single, l'ultima confessione su Stefano Laudoni Valentina Vignali torna a parlare di Stefano Laudoni. La storia tra i due famosi cestisti, Stefano Laudoni e Valentina Vignali, è ormai conclusa. A dare l'annuncio è stata proprio lei, attraverso i social, spendendo persino parole carine sulla loro storia. La relazione è durata quattro anni e mezzo ed è giunta al cappolinea, stando alle parole di Laudoni, per problemi mai risolti. . In sostanza il loro amore non era totalmente come appariva sui social, Instagram in particolare, ma c'erano dei seri problemi di fondo. . Nel post di addio la Vignali aveva fatto pensare ad un tradimento subito ed è partito lo scontro social tra i due ex fidanzati. A quanto pare la modella aveva ragione perché Stefano ha incontrato un'altra ragazza, Francesca Brambilla, durante la loro relazione. . A questo punto Laudoni ha intrapreso la storia con la star di Avanti un altro che pare, però, essere giunta già a termine. . Molti fan della coppia Laudoni Vignali sperano in un ritorno di fiamma ma la ragazza ha le idee ben chiare. . Stefano è una persona ormai fuori dalla sua vita, ma non dal suo cuore. . Nel cuore di Valentina Vignali ci sarà sempre un posto occupato da Stefano Laudoni. . Qualche tempo fa Valentina Vignali ha risposto ad alcune domande su Instagram riguardo la fine della sua relazione con Stefano Laudoni. . In quell'occasione ha anche chiarito come sono iniziate le cose tra lui e la Brambilla e come, allo stesso tempo, sono finite con lei. . Ora che la coppia Laudoni Brambilla si è sciolta, la Vignali ha risposto a tutti coloro che le chiedono se ci può essere un ritorno di fiamma con Stefano. . Qualcuno le lascia un commento sotto una foto dicendo che riprendersi il suo ex sarebbe un grave errore. . A questo punto Valentina, decisa, risponde, io non devo riprendermi niente. . Ste sarà sempre l'amore della mia vita e lo porterò sempre qui, aggiunge il cuore. . Certe persone possiamo tenerle solo lì dentro, insieme a ciò che è stato di più bello, ma non nella nostra vita. . Per Valentina Vignali Stefano Laudoni è un capitolo chiuso. Possiamo dire, quindi, che se prima la porta per Stefano Laudoni era quasi aperta, ora Valentina Vignali ha cambiato proprio serratura. . Per la cestista, quindi, Stefano è una persona che non potrà più entrare nella sua vita. È una donna ferita Valentina, ha sofferto molto per la fine di questa storia e ha deciso di lasciare fuori dalla sua vita tutto ciò che non la fa stare bene. Sarà pronta per un nuovo amore?. . 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